Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove si segnalano due chilometri di coda per lavori tra Ginestro Fiorentina e La Strassigna in direzione Firenze. Per altri lavori sono possibili disagi tra Empoli Est e Ginestro Fiorentina in entrambe le direzioni. Per questi lavori lo svincolo di Montelupo Fiorentino è chiuso in entrata in direzione Firenze e in uscita provenendo da Livorno. Code per un incidente al chilometro 64 tra Lavoria e Vicarello in direzione Livorno. In A1 in direzione Bologna un chilometro di coda per lavori tra Chiusi e Valdichiana. Sempre verso Bologna corsie di sinistra chiuse per lavori tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Sud e Firenze Impruneta e tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Varico Baccherai ancora in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!